103.088 nell'Italia centrale, 51.916 nelle Marche, oltre 24.000 in Nam Provincia, di cui più di 11.000 soltanto a Pesaro. Questi i numeri delle schede elettorali che per le europee riportavano la scritta Matteo Ricci, consegnando così all'ormai ex sindaco di Pesaro un biglietto per un volo diretto a Bruxelles in veste di parlamentare europeo. Un marchigiano in Europa, un peserese in Europa. Per ritornare ad un evento simile bisogna tornare indietro di almeno due decenni, se non tre, e spostarsi comunque sia verso Fano. Insomma, Matteo Ricci compie un'impresa, scrivendo un'importante pagina non soltanto della sua storia politica, ma anche di quella della sua città. Il risultato dell'europea è davvero incredibile, perché per un marchigiano sembrava impossibile. Abbiamo detto che questa sfida somigliava alla scalata dell'Everest. Poi gli ultimi giorni avevo visto la vetta, ci ho sperato, ci ho creduto. Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto nelle marche, innanzitutto, perché 52.000 preferenze sono una cosa incredibile. E poi a Roma, a Bettini, Mancini, Morassut, sindaco Gualtieri, tutti quelli che mi hanno aiutato a Roma a ottenere il resto del risultato. Una vittoria netta, quella della centrosinistra guidato da Biancani a Pesaro nei confronti della centrodestra, per la quale il sindaco uscente Ricci si complimenta con il compagno di partito e tutta la coalizione, preparandosi al passaggio di testimone con grande fiducia e serenità. Sono molto contento per il risultato di Biancani, perché a me i vecchi dirigenti politici mi hanno insegnato che un buon dirigente si vede da come esce, non da come entra. Io volevo lasciare tutto in ordine, quindi abbiamo lasciato la capitale della cultura, tanti investimenti, un'alleanza molto larga, un'unità granitica del PD intorno a Biancani, un candidato fortissimo come Andrea. Sapevamo che era un candidato molto popolare, ha fatto una campagna veramente importante, sarà un grande sindaco e vincere al primo turno con oltre il 61%, davvero è una cosa che riescono a fare pochi. La dimostrazione è che siamo una grande squadra, ognuno con le sue peculiarità, sono convinto che Andrea sarà non solo un ottimo sindaco ma farà ancora meglio. Meglio di così non poteva andare, nel senso che per me la cosa fondamentale era rivincere la città, rivincerla con questo grande divario è ancora più bello. E poi abbinare a questo il fatto che un marchigiano per la prima volta va in Europa dopo 30 anni è davvero un risultato storico, possiamo parlare di un risultato storico. Un risultato, quello tenuto nelle Marche a Pesaro dalla duo Ricci Biancani, che secondo il sindaco uscente rappresenta la conferma della fiducia da parte dei cittadini e l'inizio della riscossa in vista delle elezioni regionali. Abbiamo faticato tanto, però la gente a Pesaro si fida di noi perché ci vede lavorare, ci vede impegnarci per i cittadini, sa che siamo una squadra, che siamo uniti, che non facciamo mai prevalere l'ambizione personale all'obiettivo comune, sa che siamo persone oneste e i risultati lo dimostrano, altrimenti non continueremo a vincere in perterriti con risultati sempre maggiori. Un bel segnale anche per ripartire in Regione, perché l'avevamo detto che sarebbe stato un doppio avviso di sfratto ad Acquaroli, la vittoria di Biancani e la mia elezione, così è stato, adesso guidiamoci la festa, poi avremo tempo di pensare ad altro.